Buongiorno a tutti cari amici di Blue Rating, siamo qui con Stefano Reali, Vice Director e Fund Manager di Farus Sikav, per parlare di mercati finanziari. Grazie Stefano per essere con noi. Ciao Andrea, grazie a voi e buongiorno a tutti. Benissimo, allora inizierei da una panoramica generale sui mercati, ti chiediamo Stefano quali sono i temi che a vostro avviso guideranno i listini nei prossimi mesi? Ma diciamo che dopo una parte iniziale di anno sicuramente positiva, la cosiddetta fase post-pandemica, ci troviamo adesso in una fase cosiddetta un po' di picco. Il mercato sta iniziando un po' a scontare, apprezzare appunto questa fase di, come si dice in inglese, peak growth, quindi picco di crescita. Questo è vero se guardiamo i dati macroeconomici, che si sono ripresi in maniera importante appunto dopo le correzioni, quindi intendo i cali in particolare di GDP che abbiamo registrato nell'anno passato. Ora sono salite molto bene sia le crescite economiche sia tutti i dati macro ed è normale, fisiologico, che arrivati poi ad una ripresa ci si trovi un po' ad un punto in cui i dati macro che sono usciti molto positivi tendono adesso diciamo a rallentare nella loro crescita. Questo è vero sia per i dati macro, è anche vero per i risultati aziendali, quindi se guardiamo al mondo corporate, gli utili aziendali hanno vissuto una dinamica molto simile, per cui ecco lo scenario che l'investitore dovrà fronteggiare per i prossimi mesi sarà esattamente questo. Quello di essere consapevole che ci troviamo in una fase di picco e quindi diciamo aggiustare il portafoglio per fronteggiare questa nuova fase che sostanzialmente sarà caratterizzato da un ritorno alla normalità, crescite più normali sia a livello macro sia a livello di utili. Ecco quindi abbiamo inquadrato lo scenario in generale, si parla di tanti temi sulle testate specializzate, dollaro forte, inflazione, possibile incremento anche delle tasse corporate negli Stati Uniti, questo scenario come può impattare sugli utili aziendali e quali sono le vostre aspettative per quanto riguarda gli utili dei prossimi trimestri? Lo si diceva precedentemente, quindi mi ricollego un po' a quello che dicevo prima, anche la dinamica degli utili aziendali era scesa molto, quindi gli analisti avevano molto tagliato le stime sugli utili l'anno scorso. Ricordiamo che gli utili sono scesi di circa il 40-45% in Europa l'anno passato, quest'anno anche per un semplice effetto base abbiamo una crescita altrettanto importante e vigorosa, quest'anno gli utili ad esempio europei dovrebbero registrare circa un più 50-55%, siamo un più 40 negli Stati Uniti, ed è normale, è naturale che dopo questa crescita vigorosa, quindi dopo questo processo di revisione e rialzo delle stime, si arrivi un po' in una fase in cui questo processo tende un attimino a fermarsi, gli utili tendono a lateralizzare e le dinamiche che giustamente evidenziavi sono tutti degli elementi che sono in questa fase particolare di anno monitorate con grande attenzione da parte di tutti gli investitori, perché? Perché potrebbero potenzialmente impattare proprio questi risultati aziendali che finora stanno andando oggettivamente molto bene. Anche se guardiamo la marginalità del mercato americano, ad esempio le aziende americane hanno registrato quest'ultimo trimestre il massimo in termini di profit margin mai registrato nel corso della storia, per cui ecco tutte queste dinamiche a cui facevi riferimento potrebbero avere un impatto sulla marginalità, sui risultati aziendali, ed è anche naturale che questo avvenga, come si diceva un po' prima, dopo una grande periodo di corsa e di recupero, che ci sia un momento un attimino di debolezza, quindi magari qualche disattesa in più, possiamo tradurla un po' così sui mercati. Probabilmente è ragionevole attendersi per la prossima reporting season delle disattese un po' superiori rispetto a quelle a cui siamo stati abituati fino ad oggi. Ecco, oltre diciamo alle dinamiche macroeconomiche c'è anche la dinamica monetaria, possiamo dire, nel senso che le banche centrali negli ultimi anni, ormai possiamo parlare di più di un decennio, hanno guidato i mercati finanziari, bene o male, con le loro politiche estremamente espansive. Sul fronte della politica monetaria e dei tassi, Stefano, cosa dobbiamo aspettarci secondo te e quali sono i possibili effetti sui listini? Sì, ecco, questo della dinamica monetaria, diciamo, è l'altro grande tema. Quindi il tema di cui abbiamo parlato prima, gli utili aziendali, noi riteniamo sia da sempre l'elemento principale, numero uno, da monitorare e analizzare quando si parla di equity. È altrettanto però importante in questi ultimi anni, lo sappiamo, capire come, diciamo, stanno comunicando col mercato le banche centrali. Da questo punto di vista, gli ultimi interventi di Powell, ma anche della Banca Centrale Europea in parte, hanno fatto intendere in maniera neanche troppo velata che è ragionevole attendersi uno scenario prossimo futuro di tassi che saranno più elevati rispetto al livello attuale e quindi un intervento, il famoso tapering, quindi di graduale allentamento monetario. Le banche centrali sono state però molto, come dire, lasche in questa loro retorica di comunicazione, quindi hanno lasciato comunque spazio a una revisione e non hanno dato dettagli di alcun tipo. Il mercato però ha subito reagito prezzando un po' queste dinamiche, quindi un aumento nel breve periodo dei tassi e, come stiamo vedendo in questi giorni, una correzione non molto violenta, ma una correzione comunque un po' in generale di tutti gli asset azionari. Quello che secondo noi è ragionevole attendersi è comunque un atteggiamento accomodante, che continuerà ad essere accomodante in fondo da parte delle banche centrali. È naturale e normale che ci sia il tapering, ma questo inizia già, dal nostro punto di vista, ad essere anche già quasi prezzato dal mercato, accompagnato da un rialzo dei tassi che noi vediamo più concentrato nel breve periodo. Facciamo, se andiamo un po' più in là nel tempo e ci spostiamo sulle scadenze più lunghe, a vedere con veramente un po' di difficoltà uno scenario strutturale di tassi molto più alti, diciamo, dai livelli attuali o comunque dalla soglia anche psicologica del 2%, che è quella a cui il tasso sembra tendere invece nel breve periodo. Ecco, quindi un cambiamento molto graduale che non comporta grandi novità nel breve termine sul fronte della politica monetaria. In conclusione, Stefano, qualche considerazione anche sui settori. Ci sono settori che in questo momento, a vostro avviso, sono particolarmente a buon mercato, comunque sono sottovalutati o comunque hanno valutazioni interessanti? Ma noi in questa fase stiamo guardando i settori tradizionalmente considerati un po' più difensivi, penso ad esempio in particolare al mondo healthcare, diciamo quello più tradizionale peraltro, perché anche qua quando si parla di healthcare è un mondo molto eterogeneo, ci sono titoli, diciamo, farmaceutici più tradizionali, se vogliamo così chiamarli, e sono quelli dove noi siamo più positivi, penso, non so, ad una merca, ad una Novartis, rispetto, ad esempio, a tutto l'altro mondo, sempre farmaceutico, però più orientato alla crescita e alle tematiche growth, sul quale invece per questioni valutative siamo attualmente un po' più prudenti. Pensiamo che un posizionamento anche nei settori altri più difensivi, come consumer staples e ad esempio Utilities potrebbe essere una buona idea per affrontare, diciamo, questa parte finale di anno, riuscire un po' meglio a capire qual è la direzione del mercato, avere segnali un po' più chiari dalla prossima reporting season da parte di varie aziende che ci diranno l'effetto che evidenziavamo prima sui margini, se c'è, se non ci sarà, che impatto avrà, quindi ecco, chiarire meglio le idee e quindi riuscire magari con più serenità a rimpostare il portafoglio per l'anno nuovo, magari anche in un'ottica di maggior rischio all'interno dei portafogli. Tendiamo sempre ad essere un po' più invece cauti su quei settori che giustamente con rialzo dei tassi stanno beneficiando in quest'ultimo periodo, vedi i settori più ciclici, materie prime, finanziari, che potranno andare bene nel breve, ma sul lungo, ecco, abbiamo qualche elemento un po' ulteriore di preoccupazione. Bene, allora noi ringraziamo Stefano Reali, Vice Director e Fund Manager di Farus Sikaf, grazie per essere stato con noi. Grazie a te e buongiorno a tutti i tuoi telespettatori.